Sindaci sul piede di guerra per i disagi dei propri cittadini nell'accesso agli uffici postali, ancora orari e personale ridotti e misure anti-covid stringenti a cui bisogna attenersi, stanno creando non pochi problemi e dinnanzi a poste italiane si vedono lievitare file e anche esasperazione. Le progressive aperture delle fasi 2 e 3 non sembrano aver modificato questo stato di cose, è particolarmente pesante nei piccoli comuni dove per la maggior parte gli uffici postali da tempo sono aperti solo a giorni alterni. Proprio nei giorni scorsi sono arrivate vibranti proteste da diversi primi cittadini. Il sindaco di Laurito, Vincenzo Speranza, ha minacciato di adire le vie legali e lanciato l'out-out. Dopo l'ennesima diffida scritto in un post e le innumerevoli sollecitazioni verbali agli organi provinciali, ho investito direttamente il responsabile per il sud di poste italiane, rappresentando la necessità di ripristinare immediatamente il normale funzionamento dell'ufficio di Laurito per tutti i giorni a settimana e di nominare definitivamente il titolare per far fronte ai gravi disagi provocati ai cittadini dalla lentezza nella esecuzione delle prestazioni. Se entro la fine del mese, ha continuato Speranza, registreremo ancora la stessa indifferenza, mi farò promotore di un'azione giudiziaria per perseguire quella che considero una vera e propria interruzione di pubblico servizio con la scusa del Covid-19. Hanno fatto sentire la loro voce a poste italiane anche il sindaco di San Giovanni Appiro, Ferdinando Palazzo, che deve fare i conti pure con un postamat non funzionante, e il primo cittadino di Sapri, Antonio Gentile, dove, sebbene gli orari di apertura siano più ampi, l'ufficio postale non funziona ancora a pieno regime e si registrano lunghe attese. Ho contattato la direzione delle poste e ha detto Gentile, ci sono troppe file, bisogna riprendere con l'apertura pomeridiana di nuovo e bisogna che si renda più confortevole l'attesa che adesso avviene con la gente per diverso tempo ferma sotto al sole. Pare che comunque poste italiane stia lentamente riaprendo i vari uffici, partendo dai più grandi e più piccoli. La prossima settimana già ci potrebbero essere delle novità.